Cinque proposte propedeutiche al rilancio economico della città. Questo è il contenuto dell'atto d'indirizzo che il capogruppo e candidato sindaco del PD Luciano Ralli, assieme al capogruppo di Arezzo in Comune e Francesco Romizzi, presenteranno e che verrà discusso in Consiglio Comunale il prossimo 14 aprile. Ovviamente sarà una seduta online. Le proposte dei due esponenti politici sono quelle di sospendere immediatamente i pagamenti di tassa in poste comunali, spalmare quanto dovuto in più rate per un tempo adeguato, richiedere a nuove acque e destra di adottare lo stesso comportamento, discutere con Camera di Commercio, categorie economiche, sistema bancario, la possibilità di uno stop al pagamento di mutui con un intervento di sostegno di natura pubblica, perlomeno per la quota di interessi, ed infine promuovere la riconversione produttiva delle aziende tessili disponibili per produrre mascherine. Arezzo si prepara ad affrontare una crisi economica e sociale probabilmente senza precedenti. Negli ultimi decenni, ha commentato Luciano Ralli, il doveroso e necessario blocco di gran parte delle attività sta determinando la contrazione se non l'assenza di reddito di imprese professionale. Le proposte formulate in questi giorni, conclude Ralli, devono essere immediatamente discusse e valutate e il Consiglio Comunale è chiamato a creare le condizioni, anche partendo da decreti governativi affinché l'economia aretina subisca i minori danni possibili e si creino le condizioni perché a fine emergenza si sia pronti a rimettere in moto un nuovo modello della macchina economica di Arezzo.